seek treatment for your illness oh l'abbondanza ha instrutto di entrare in una in un'autentic tub oddio mi ha fatto fare un bagno di sangue e sono diventato crudele in compenso come cazzo ha fatto a portare dentro tutte quelle capre lì pecore oh e sono morto col bagno di sangue sono morto adesso fermi tutto fermi tutti che dobbiamo vedere dobbiamo vedere un paio di cose prima di passare oltre che è l'ultimo l'unica fila normale si è sposata con un altro che è un altro dei nostri dei nostri eredi e poi gli altri sono tutti asiatici che gli venga un accidente che non ti è vivrei e abbiamo perso Tolosa Agin vabbè il re altobergo di Aquitania lo hanno ucciso lo hanno ucciso gli spiriti delle capre si è vero è vero confermo questa tua ipotesi vediamo le obbligazioni se riusciamo un attimo a bilanciare un attimo mi sembra sempre in negativo allora prendiamo oh noble si excellent grand landed title gli diamo county of givray l'ho perso perché non perché le leggi implicavano che uno doveva andare a finire da quelle parti come titolo c'era probabilmente il gave al kind per quanto riguarda il reami di Aquitania eh dai non c'è Rush smettila vediamo di torno i pretendenti prendiamoci quello che è nostro allora tu sei l'erede al trono l'erede al trono deve avere questo eh ma le leggi sono leggi allora andiamocelo a prendere un po' con il ducato di Svavia va che Parma è italiana e rimane come tale dangerous factions elective succession in Italia addirittura andiamo a dimischiarci un po' con i duchi di Normandia nel tentativo di madonna perché c'è ammazza sono tantissimi 13.300 ma quelli si sono anche in guerra con qualcun altro ah no stanno cercando di prendere i miei territori a nord vabbè non è un problema Sud Italia è di Bisanzio non so ancora per quanto ma è successo un piccolo problema è stato fuori un figlio bastardo da qualche parte incidenti di percorso in che senso posso fare come gli Asburgo nel caso quando salva e fa così dai che ci manca poco ma che pizza ma che pizza c'è stata un'altra un'altra ribellione di altra gente a caso per il reame adesso li andiamo a prendere ok lo facciamo diventare ambizioso che è la cosa migliore stiamo prendendo una marea di gente questo è positivo il nome di un nuovo re cioè di un nuovo figlio che cosa mettiamo di nome Kael dammi un nome qua anche Titania neonuco di corte perché abbiamo un neonuco di un nuovo Aldobrando Lo legittimiamo Siamo pieni di figli di bastardi Almeno rimane una lunghezza simile Quel bambino è dipinto in modo molto inquietante Dai sì, non è l'unico Ci sono in effetti un po' di dipinti che sono fatti un po' malino Diciamo così va 416 Questi pezzenti qua c'è una ribellione in corso E non vogliono partecipare alla guerra Dei vassalli che fanno veramente schifo Adesso aspettiamo un secondo Facciamo arrivare anche le ultime truppe E poi dopo andiamo giù In quel di Genova A far guerra 16.200 uomini contro 13.800 Bene, la gente continua a cercare di uccidermi Mentre io mi ubriaco Ma va bene così Ormai sono abituato E guarda che perdiamo Guarda, guarda Speriamo che si riprenda E perdiamo Con pure i mercenari Dalla nostra No, c'è decisamente qualcosa che non torna Cosa cazzo sta succedendo Mi sta esplodendo Tutto il reame con queste Con queste lotte interne Questo è il risultato Di quando In Crusader Kings Il gioco incomincia a decidere Che tu non devi avere I territori Ma un problema di tecnologia Mi sembra un po' strano Perché la tecnologia Io comunque ce l'ho ben sviluppata Ce l'abbiamo più o meno Tutti uguale Eh, infatti è strano Gains of Trait Wounded Troviamoci La gente che ci deve dare Allora qui dobbiamo dare I soldi Quindi i mercenari Mamma mia che casino Ma che casino Si è creato adesso Ma poi soprattutto I comandanti Continuano ad uscire Non rimangono in Non rimangono al comando E questo è il problema più grosso Adesso mi arrivano 10.000 truppe qua Guarda E non riusciremo a resistere Per motivi che non capisco Questo è il problema Va, va, va Guarda Guarda Come se non avessimo Abbastanza Abbastanza truppe Di un certo tipo Pure i peasants Si sono ribellati Eh, ma porca puzzola Così non va bene Cosa? Cosa? Devo per forza piegarmi Perché non ho truppe È un regno Completamente allo sbando Questa è la partita In cui il gioco Ti prende E incomincia a livellarti No? Tu sei riuscito A generare Il regno In una certa maniera Ti sei espanso Ma per il gioco Tu devi Spagare le conseguenze Le conseguenze Sono queste Siamo anche in guerra Con I francesi Giard per la mauretania Vabbè C'è un malessere E fermi Ok, va bene Il fisicista Ha fatto la sua parte Andiamo Alla in sposa Underhanded rogue Mamma mia Che schifo Abbiamo il figlio Che fa veramente pena Ciao Alejandro Vediamo se riusciamo A diventare Un consular Ma Unlanded son E vorrei andarlo A picchiare questo Ma so già che È tempo perso Come facciamo Come facciamo Allora vediamo Vediamo un attimo Se noi smettiamo Di 2355 Ok Adesso voglio fare Voglio fare Una Furbata Pure una console Positions Aperta Senza ragione Allora andiamo Andiamo a prendere Un po' di Soldi Dai Giudei Riassigniamo i comandanti Per sicurezza Aspettiamo Un mesetto Un mesetto Poco più E andiamo Vedi se ti hanno le strutture Per il morale più alte E quello lo devo andare a controllare Adesso Prima dobbiamo finire la guerra Perché vedi come Vedi come il morale Viene danneggiato Pesantemente Adesso ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a Scacciarli Il problema proprio È che Il morale Crolla subito Appena arriva In impatto Adesso Parma Finalmente Siamo riusciti A farla diventare Nostra Almeno Oh Finalmente Oh Le terre Sono nostre Adesso Unlanded sun Grand landed title Gli diamo County Of Parma Così almeno Tu sei contento Un nome Mamma mia Un altro Un altro Un altro bambino Illegittimo Che nome gli diamo? Al posto di Manfredo Andiamo di fare La war chest Nel mentre Intanto aspetto Che mi date un nome Quello che adesso Voglio fare Kyle Vabbè Allora con Manfredo Va bene Lo legittimiamo Perché a noi piace Ah prendo Un giudeo Va bene Va benissimo Non l'ho ancora avuto Quello Bugone Si diamogli un po' Di soldi Oh finalmente Abbiamo un bambino Normale Non tramite Relazioni Extraconiugali Ma qui La guerra Per avere Il monferrato Beh Ma dai Ma dai Ma non farmi ridere Non posso andare in guerra Per riprendere monferrato Questa è veramente ridicola Vabbè Aspetteremo Che vi devo dire Kalostaran Ciao Benvenuto Beh Proviamo a farli diventare amici Un po' tutti Che così Evitiamo problemi Ok I vassalli Sono stati diminuiti Vabbè Voglio andare a vedere Una cosa importante Che sono Come ha detto giustamente Kyle prima Lombardy Holdings Quasi quasi No vabbè Lasciamo stare Perché secondo me E infatti Il fatto è che non abbiamo soldi Per svilupparli Adesso dobbiamo aspettare Un attimino Non appena riusciamo ad avere I Un'altra Una bambina Questa volta è legittima Per fortuna Che nome gli diamo Al posto di Berenice O teniamo Berenice Dopo che dite voi Questa volta è legittima Questa volta è legittima Questa volta è legittima Dom Allora vediamo Aspettiamo che Kyle Dia un nome O Titania O Alejandro 1334 Mancano 160 anni Circa Adelaide Tutti con la Oggi I nomi Questo si è richiuso Ancora dentro Per la malaria Camp fever Shadow tempest Ciao benvenuto Ho letto adesso Il messaggio Ma avevo già dato L'ok Lo teniamo Per il prossimo E' morto Il nostro Marshal Keeper of the Swans C'è mio figlio Che mi vuole Proprio bene Too many Old Dutchies Davvero Ne ho tre Posso dare questo qua Di Toscana Potrei ma non ne ho voglia A meno che No vabbè Faccio fare a lui Dai Tengo così Che non è Non è un problema Stort subject No quello no Uh il giovane Imono Ha finito la sua Educazione Mastermind Theologician Questo va bene Non possiamo andare in guerra Allora questa cosa qui Dalla guerra Extort subject Sono il mietitore Ah Ah ciao mietitore Come stai Non sapevo che facevi questa cosa qui Dei nomi combinati Beh abbiamo Tassato un po' la gente Chi se ne frega Problemi loro Adesso ci sarà una ribellione Poi dopo mi lamento Dalla ribellione Funziona sempre così In Ungheria C'ho uno Cabo Gergeli Secondo Noi invece Come puoi vedere Come re d'Ungheria Abbiamo Re Tador Di Ungheria Oros Della Dinastia degli Orosur Orogur Legalism Majesty Noble customs Noble customs Dobbiamo avere un po' più di aiuto Da parte dei nostri Vassalli Che non vassallano niente Vediamo un attimo Se riusciamo finalmente A partecipare a questa Dannata guerra Bene Così almeno La finiamo Con questa Manfrina Del non avere Il Monferrato Sotto il nostro controllo Di fianco a noi Visto che non possiamo Fargli guerra Perché il consiglio Non me lo permette Fondamentalmente Sono Legato A quello che Desidera E che vuole Il consiglio Lascerò perdere Può cercare di fare Quello che ne ha voglia Ma non può prendere Il controllo Di Milano Non siamo il leader Del siege Vabbè Facciamolo andare A me spaventa Il fatto che adesso Da questo momento Fino alla fine Del Del gameplay È molto probabile Che l'intero Che l'intera partita Sia tutta Incentrata su Ribellione Piccolo periodo Di calma Ribellione Piccolo periodo Di calma Ribellione Piccolo periodo Di calma Un po' Problematica La cosa